ho deciso di cominciare questa esperienza di videoblog come strumento di accountability ne abbiamo parlato spesso accountability rendere conto raccontare quello che si fa e cercare un confronto diretto con chi sta dall'altra parte questi video dovrebbero servire anche a questo a raccontare il parlamento e anche quello che succede fuori dal parlamento questo primo appuntamento è per raccontare il freedom of information act purtroppo dobbiamo usare il termine inglese non a caso perché in italia non abbiamo una legge compiuta sul diritto d'accesso agli atti delle leggi esistono è vero ma quello che manca è il diritto pieno dei cittadini di accedere agli atti della pubblica amministrazione è importante perché è importante avere il diritto di informarsi pienamente avere il diritto di avere tutti i documenti che la pubblica amministrazione possiede quando il cittadino ne ha bisogno è importante perché l'amministrazione in questo modo è obbligata ad essere trasparente quante volte abbiamo sentito parlare di corruzione la corruzione si combatte in questo modo anche in questo modo dando l'obbligo a chi sta nella pubblica amministrazione di rendere accessibili ai documenti i documenti che i cittadini chiedono e allora col freedom of information act che abbiamo inserito nel disegno di legge sulla pubblica amministrazione e che quindi prima di natale diventerà un decreto delegato tutti i cittadini italiani avranno questo diritto che nel resto di europa è pienamente garantito gratuitamente si potranno chiedere dei documenti e la pubblica amministrazione che dovesse rifiutare avrà una sanzione il tutto sarà garantito dall'autorità nazionale anticorruzione guidata da raffaele cantone proprio perché noi crediamo che questo sia uno strumento fondamentale per garantire la trasparenza e a proposito d'accountability anche il FOIA il freedom of information act è un pezzo del lavoro sull'accountability grazie a tutti grazie a tutti